Tra grandi pupilli, vecchi pallini e obiettivi da paura, Allegri avrebbe sempre in mente alcuni big per il calciomercato della Juventus. È iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus che dunque ora è chiamata a piazzare i primi colpi di calciomercato da regalare ad Allegri. La dirigenza bianconera si sta muovendo su più fronti. Quello più caldo è ovviamente quello relativo a Manuel Ocatelli che è il primissimo obiettivo della lista di mercato della Juve. Il centrocampista del Sassuolo è una chiara richiesta di Allegri, che gradirebbe moltissimo l'arrivo di Locca a Torino. Ma il classe 98 è solo uno dei tanti obiettivi del tecnico bianconero, che di sogni nel cassetto ne ha anche tantissimi altri. Noi dunque abbiamo stilato una lista, abbastanza clamorosa, di tutti i sogni di calciomercato di Allegri, tra vecchi pallini e grandissimi obiettivi che potrebbero infiammare l'estate della Juventus. Senza perdere altro tempo dunque partiamo subito con la raffica dei 12 nomi da sogno di Allegri. 1. Gabriel Jesus, centravanti brasiliano del Manchester City. 2. Paul Pogba è un pupillo di Allegri. 3. Robin Gonsens, esterno sinistro dell'Atalanta. 4. Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. 5. Mauro Icardi, attaccante del PSG che da tempo piace ad Allegri. 6. Yuri Tilemans è il nome nuovo sulla lista di Allegri. 7. Milinkovic Savic è sempre uno dei grandissimi sogni di calciomercato della Juventus. 8. Blaovic, centravanti della Fiorentina, è nel mirino bianconero. 9. Luis Alberto è un nome che piace davvero tanto ad Allegri. 10. Miralem Pjanic, ex bianconero che Allegri riabbraccerebbe volentieri. 11. Mikkel Damesgard della Sampdoria è sulla lista di mercato della Ip12. Moise Kim potrebbe tornare a Tori. Eccoli dunque i sogni di calciomercato della Juventus e in particolar modo di Mister Allegri. Alcuni di questi sono ovviamente obiettivi proibitivi e molto complicati, che potrebbero però tornare di moda qualora i bianconeri mettessero assegno qualche cessione eccellente. Altri invece sono veri e propri obiettivi concreti della vecchia signora, destinati quindi ad infiammare l'estate juventina. Detto questo, a prescindere da questi sogni di mercato, la Juve è pronta a chiudere alcuni acquisti ben precisi che sono già in programma.